Eh! Sto facendo le medaglie! Voi fa sesso! Fondrei venire a te parlare d'altura e d'altura nel camereale dove fa sesso! Rasgami a te sotto l'ottomana! E sotto le palanche, sotto le palanquine, la foccia! Se fosse patulì! Eh... Patulì, tu dici! E qui, la mia giornata tipo! 10 ore la mattina, con un po' di hoge e mandarele! E stavo qua con la balena! Eh sì! Ho gonfiato a gonfiare! Va avanti con quella macchina! Ah, piacere, lei sarebbe... Ah, Erman! Tedesco, lei è tedesco! Ma capisci l'italiano, sì! Ah, eh... Ah, ho s**tato a tua figlia! Ah, è incinta! Ah, anche la figlia, dicono... Ah, quindi anche la cugina! Sono incinta tutte e due! Eh, ok! No, a Silku stasera! Allora, il mio meglio a Silku è una rata... ...e 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 una rata... ...faranche, ma è normale... ...e una siccità di che... ...spendere ...faranche, via! Only! Io... ...un comando ...sono un trattoresta ...e me levanto ...e sto cargando e legna... ...pasture... ...i Franco... tre luciaggi, e io ho scusato il tuo consiglio, eh, sono stato bravo tutta notte, ma speciale, a lui ho scusato il tuo consiglio, Franco, se io ho scusato il mio e dalla merda, non si sentiva niente, eh, grazie, sono stato bravo, so.